Nando, Nando Colelli, che è partecipato al GF11, ha intrapreso questa nuova carriera e quindi, diciamo, Nando, cosa possiamo promettere alle persone che stai guidando i tuoi film e alla tua nuova avventura in questo nuovo settore? Allora, anzitutto, buonasera a tutti, grazie a tutti qui di essere venuti. E niente, io ho preso questa carriera grazie a Federico, l'ho conosciuto tramite un amico Tassinari che questa sera non c'è e sto facendo dei film, ho fatto pure uno con Sara Tommasi, sono trovati molto bene e spero di continuare, io sono simpatico, faccio lì, però vediamo. Grazie a tutti. Grazie, Nando.